Scabec, Regione Campania e Comune di Teggiano presentano Assalto al Castello 11, 12, 13 agosto Castello Macchiaroli, Teggiano, Salerno Il borgo antico, feudo dei principi di Salerno San Severino, sarà protagonista assoluto con una rievocazione storica unica ed esclusiva Assalto al Castello, 11, 12, 13 agosto Teggiano, Salerno L'evento più spettacolare dell'estate 2019 L'evento più spettacolare dell'estate 2019